Ciao, mi chiamo Matteo Calloni e sono il fondatore di BrokerPellatelefonia.it e di BrokerPellenergia.it Se sei sui nostri siti, sappi che il nostro scopo è quello di farti risparmiare sull'energia e gas Com'è che lo facciamo? Siamo broker energetici e broker telefonici In modo particolare siamo diventati broker energetici da oltre 7 anni E in questi anni abbiamo selezionato per te o per la tua azienda le migliori offerte sul mercato andando a trovare le migliori 10 compagnie elettriche tra le oltre 650 esistenti in Italia Che cos'è che possiamo fare per te? Per te possiamo sicuramente andare a tagliare i costi di luce e gas sia che tu sia un privato, che tu sia un'azienda o una grande azienda o un'attività commerciale Come lo facciamo? Molto semplice Con queste 10 compagnie elettriche e del gas abbiamo la visione globale di tutte le migliori tariffe sul mercato in questo momento Non lavoriamo per le compagnie di energia e gas Lavoriamo per te Quindi il mio scopo è quello della mia società è quello di seguirti negli anni per far sì che tu abbia sempre la migliore tariffa luce e gas presente in questo momento Quanto ti costa il tutto? 0 euro In questo caso sarà il miglior gestore che ci andrà a pagare il compenso per la consulenza nel caso tu sia un privato Nel caso tu sia un'azienda sempre 0 euro Se vuoi essere seguito in maniera ancora più approfondita abbiamo una consulenza annuale che copre tutte le utenze di telefonia, internet, luce e gas che ha un costo annuale di 100 euro e ogni 4 mesi riguarderemo tutte le tue utenze Nel caso in cui questa cosa non ti interessa semplicemente che tu sia un privato o un'azienda inviesci le tue bollette di luce e gas alla mail che trovi che può essere energiachiocciola brokerperlatelefonia.it o anche al mail principale infochiocciola brokerperlatelefonia.it ti faremo un'analisi gratuita di quanto stai spendendo in questo momento e della tariffa che ti possiamo andare a proporre attualmente sul mercato e ti diremo quanto puoi risparmiare ogni anno che cos'hai da rischiare? Niente hai solo la possibilità di andare a risparmiare se questo video ti ha convinto scrivici se non ti ho convinto vai sul web e controlla le nostre recensioni e chi siamo e sono sicuro che dopo ci invierai un'email per sapere quanto puoi risparmiare sull'uscio e gas ciao e buona giornata